Un giorno significativo per parlare d'amore sano, non quello tossico, come viene definito oggi. Una tavola rotonda intitolata Ti amo da vivere, organizzata dall'IPA, il Rotary, Lanciano Costa dei Trabocchi, la Camera Penale, il Liceo Scientifico e il patrocinio della Prefettura di Chieti. I casi di violenza tra le mura domestiche, di violenza fisica e psicologica, sono sempre tanti ed è importante promuovere a tutti i livelli la cultura del rispetto, partendo dai giovani e dalla scuola. E' il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, la festa dell'amore ed è importante proprio oggi rilanciare un messaggio, quello che l'amore è vita, l'amore non è un femminicidio, una violenza di genere. Viene rilanciato nel corso di un incontro a Lanciano, Paola Di Anni, il referente del progetto Al di là del muro del Liceo Scientifico Galilei di Lanciano. E' importante anche nella scuola far capire, appunto, in questo caso, che l'amore è vita. Sì, pensiamo che la scuola debba un po' mediare tra il mondo esterno, le famiglie e gli alunni, cercare di trattare temi anche molto complicati, perché di femminicidio si parla spessissimo, ma in una visione più sensibile di quello che sta succedendo e mediata da persone esperte che questi temi trattano nella loro quotidianità, quindi avvocati, giornalisti, psicologi, quando è possibile, persone molto più preparate di noi perché operano in quel settore, perché i ragazzi hanno bisogno di vedere le storie, di sapere davvero quello che succede e farsi una propria opinione, che speriamo poi siano capaci di riportare a casa, nel senso che si facciano loro promotori di nuovi valori con le loro famiglie. I ragazzi hanno interagito in qualche modo con i relatori, hanno fatto domande, sono intervenuti? Sì, c'è sempre la timidezza da superare per loro. Alcune classi hanno discusso l'argomento anche durante le ore curriculari all'interno dell'educazione civica. Rino Gaeta, un altro appuntamento che rientra nell'ambito del percorso di legalità che sta portando avanti come IPA. La seconda tappa di questo percorso didattico sociale, devo ringraziare il prefetto per il patroginio, un altro patroginio che ci ha dato, il patroginio pure del comune, e poi abbiamo creato questa joint venture, l'IPA, l'International Policy Association, con le Camere Penale e con il club del Rotary Lanciano, Costa dei Trabocchi e con il liceo scientifico Galilei di Lanciano abbiamo dato un po' di spazio a quelle che erano le tematiche che la scuola ci ha chiesto. Oggi, in violenza di genere, l'abbiamo approntata in una modalità diversa. Oggi, San Valentino, l'amore. Il titolo è essenziale. Ti amo da vivere. Per togliere dal nostro modo di pensare e di vivere, ti amo da morire.